A me la cosa che preoccupa di più è l'articolo 117, a dirle il vero, per quanto riguarda il potere dei cittadini e del nostro paese, perché vengono introdotti che il potere spetta allo Stato e alle regioni, ma tutto deve stostare ai vincoli derivanti dall'Unione Europea. Allora, questo viene introdotto in questa riforma. Noi ci stanno dicendo che anche se il 100% del Parlamento fosse contrario a un'imposizione, all'ennesimo diktat che arriva dall'Unione Europea, anche il 100% del Parlamento, anche il 100% dei cittadini di questo paese non potrebbero più fare nulla. Quindi ha poco da fare Renzi nel clima preelettorale, andare a battere i pugni in Europa, no, vogliamo flessibilità, cattiva Europa, cambiamo verso l'Europa, e nel mentre ci introduce nell'articolo 117, primo comma, che qualsiasi decisione che spetta alla sovranità nazionale è vincolata e soggetta ai vincoli dell'Unione Europea e diktat della Merkel di turno. E questa è la vera perdita di potere, e questa è la vera drammaticità della cosa. Stanno cercando di togliere il potere al popolo e consegnarlo a piccole lobby potenti.